Sì, continua a crescere la passione per il basket nella nostra città e per la fortitudo in genere. Abbiamo grandi aspettative, grandi sogni, proviamo a realizzarli. Insieme, come società e come associazione, perché l'associazione è diventata società. Sì, siamo inseriti nella compaggia societaria proprio l'associazione, perché crediamo nel nostro pubblico, con la nostra passione, che è il sesto giocatore in campo, come abbiamo visto anche ieri, ma purtroppo il basket fa questi brutti scherzi. Grazie, grazie mille. Posso chiedere una cosa a Pavani? Io sono fortitudina, sfegatata. Lo vogliamo vincere questo derby in casa, per favore? Anch'io sono fortitudina, sfegatata come te, e sarebbe un bel sogno. E' paradozza poi. Assolutamente sì, quindi non è solo quella la partita che ci fa andare in A1, sicuramente per noi tifosi della fortitudo è una partita molto importante, speriamo di sì, ma mi piacerebbe andare in A1, sinceramente. Anche a me molto. Ma Federica è meglio vincere il derby e andare in A1, perché è la discussione. Aia, aia, questa è scomoda di domanda. Se una cosa esclude l'altra, meglio andare in A1. Però deve essere automatica la cosa.